Buongiorno, venerdì 27 gennaio seduta che completa questa settimana di acquisti sui mercati finanziari mondiali, c'è stato un risveglio anche dei mercati americani, soprattutto del Nasdaq. Il nostro Fuzimib è l'indice tecnicamente meglio impostato, però non mi aspetto chissà quali movimenti perché ormai incombono le banche centrali, vi ricordo sempre mercoledì 1 febbraio la Federal Reserve, giovedì 2 febbraio la BCE, perché tutto si giocherà sull'entità dell'aumento di Fed e BCE, al momento il mercato si sta muovendo come se stesse prezzando 25 punti base da parte della Fed, se fossero 50 secondo me una correzione di breve potrebbe tranquillamente iniziare, se fossero 25 ci potrebbe comunque essere anche una sell on news. Il mercato continua a essere molto tirato, però come vi ho detto già da qualche settimana continua la mia modalità, non capisco ma mi adeguo, perché andare short overnight su questo mercato sarebbe al momento molto controproducente. Iniziamo però come al solito dagli indici americani perché verifichiamo le chiusure, il Dow è uscito da quella congestione che dicevamo di queste tre candele 23, 24, 25 gennaio quasi allineate, conferma la rottura della media mobile a 50, 33,621, diciamo che potrebbe proseguire a rialzo, subito un livello importante di resistenza a 34,016 sul massimo del 18 gennaio e poi eventualmente 34,342. Per quanto riguarda lo standard, alla fine chiude la giornata rompendo i massimi che aveva fatto il 23 gennaio a 4.039, c'è questo livello di 4.053 che sarebbe stato il primo target, il target successivo sul massimo della spin top del 14 dicembre, chiude addirittura a 4.060 per cui può puntare a andare su questa sorta di doppio massimo, primo dicembre, 13 dicembre in area 4.100. Bene anche il Nasdaq, rimane solo l'incognita del gap di cui vi parlavo ieri, rimasto aperto a 11.334, chiude quasi millimetricamente sulla media mobile a 200, 11.516 e la chiusura è stata 11.512, quindi diciamo che la quasi testata, a questo punto il target potrebbe essere 11.571 relativo al massimo del 13 dicembre. Se allarghiamo il grafico vediamo che poi c'è un successivo livello sul massimo di questa Long Black, 21 settembre 2022, 11.613, quindi 11.571, 11.613. Dax non è ancora riuscito a uscire dalle ultime 6 candele di congestione, sta creando un box il cui minimo è 14.906 e il cui massimo è 15.145, vedremo se oggi riesce a rompere questo livello andando prima a 15.250 e poi a 15.269. Il CAC invece è sui massimi, in questo caso è da confermare una rottura di 7.115, ieri ha fatto 7.117, probabilmente sopra questi livelli si aprirebbero nuovi spazi di salita e probabilmente il target sarebbe almeno sui massimi della Shooting Star relativa alla seconda settimana di febbraio dello scorso anno 7.169. Per quanto riguarda l'Eurostox, anche qui non è ancora avvenuta la rottura dei massimi di periodo e questa rottura sarebbe sopra 4.197, sopra questo livello dobbiamo allargare il time frame a settimanale e vedere che probabilmente avremo due massimi su time frame settimanale abbastanza ravvicinati, 4.239, 4.259 relativi alla seconda e prima di febbraio dello scorso anno e quello è il target potenziale di questo movimento. Come vi ho detto, l'indice, noi esaminiamo sempre il futures perché lavoriamo ovviamente poi eventualmente con il trading sul fib, comprando o vendendo fib, comprando o vendendo mini fib, il Fuzimib Futures è decisamente il più forte in Europa e questo indipendentemente da quanto stia guadagnando da inizio anno perché questo pattern che è una sorta di uncino di Ross con la rottura dei 26.140 e ieri siamo andati a target, se vi ricordate vi avevo indicato 26.375 come target ed è il massimo di questa long black del 23 di febbraio lo scorso anno. A questo punto dobbiamo allargare il grafico a time frame settimanale e vedere che possiamo raggiungere i 26.735 di cui vi parlavo che sono praticamente relativi all'ultima settimana di febbraio dello scorso anno. Quindi vedete che l'impostazione tecnica del Fuzimib Futures è decisamente la migliore. Diamo uno sguardo ai futures, quelli americani sono leggermente in calo, Dow meno 0.09, Standard & Poor's 500 meno 0.31, Nasdaq 100 meno 0.65, Russell 2000 meno 0.14, il DAX sta facendo più 0.13, il CAC meno 0.18, l'Eurostox più 0.17. In Asia il Nikkei perde lo 0.35, il Topix guadagna lo 0.10, Langseng perde lo 0.16, il Chinese Share guadagna lo 0.36, Singapore guadagna lo 0.56, il Cospi guadagna lo 0.92. Veniamo alle notizie regolamentate, come vi sarete accorti ieri ho caricato più video del solito perché se ci sono delle trimestrali molto interessanti, anche se mi costo ovviamente tempo e fatica, preferisco caricare un video, cerco di starne 10 minuti specifico, non lo farò per le società che pubblicano solo i ricavi preliminari. Infatti il primo titolo di cui parliamo, sicuramente un titolo molto interessante perché si tratta di Salvatore Faragamo, però indipendentemente che i dati sui ricavi siano in leggero miglioramento, più 5,7%, con un ralentamento nel quattro trimestre dovuto alle estrezioni anti-Covid in Cina, i ricavi ammontano a 1.252.000.000 contro 1.272.000 del Consensus, quindi in ogni caso magari oggi potrebbe anche scendere perché è sotto il Consensus, però ovviamente quando avremo il complessivo, quindi come vi ho già spiegato, EBITDA, EBIT, Tutile Netto, posizione finanziaria netta, potrò esprimere un giudizio più compiuto. Tra l'altro Faragamo è su un'area di resistenza abbastanza importante che ha superato di recente, potrebbe ancora salire fino a 19.62, che è massimo della prima settimana di marzo dello scorso anno, però questo rallentamento nel quarto trimestre e ricavi comunque leggermente sotto le stime potrebbero anche preludere a una fase di consolidamento che potrebbe raggiungere almeno i precedenti massimi relativi 17.78-17.74. Ecco, quindi io personalmente non comprerò e aspetterò una correzione. Poi c'è una notizia su TOTS che ieri è stata ben comprata, vi ho già spiegato che già in After Hour il titolo dopo l'uscita dei ricavi preliminari era salito. Il patto parasociale stretto lo scorso 3 agosto tra Famiglia della Valle e il VMA sulle azioni TOTS è stato sciolto in modo consensuale dopo che è fallita l'OPA lanciata dai fratelli della Valle per il listing del gruppo. Comunque, ieri è stato lasciato questo gap aperto a 32.64, abbiamo media mobile a 200, 34.90, media mobile a 135.05, ovviamente gli spazi di salita sopra 34.84, al di là che poi, vi ho già detto, ci sono queste due medie mobili importanti, quindi diciamo dare a 35 in su sono enormi perché ovviamente rimane il gap dal punto di vista tecnico lasciato aperto il 25 di ottobre scorso a 38.76. Poi ci dobbiamo occupare di Safilo, Safilo supera di poco le previsioni sul fatturato 2022 registrando un aumento del 4,2% a tassi di cambio costanti grazie alla performance positiva dei propri marchi e delle attività in licenza. Le bidà adjusted di circa 101 milioni, pari o margin sulle vendite di circa il 9,4%. Ecco, qui il mercato secondo me ha già anticipato i dati perché ha fatto questa shooting star nella seduta di mercoledì massimo di periodo 1.66,9, chiusura 1.62,6 e poi ne è seguita quasi una marbozzo black, 1.63,5 in apertura, 1.57 di minimo, quindi devo dire quasi perfetta, con chiusura 1.57,4. Per cui tecnicamente io vedo il titolo almeno a 1.54,8 e poi a 1.53,5. Poi ovviamente sul rilascio dei dati bisogna sempre vedere, noi possiamo fare delle previsioni, ma come reagisce il mercato. Poi abbiamo De Longhi, De Longhi purtroppo ha rilasciato soltanto i dati sul fatturato, tra l'altro leggermente in calo del 2% rispetto al 2021, ha comunque pur fatto 3 miliardi di 158 milioni, secondo l'amministratore delegato il 2023 si chiuderà con una leve effessione delle vendite. De Longhi secondo me era salita troppo dai minimi, era giusto che recuperasse, perché vedete che qui aveva fatto una bellissima base in area 14,30, mi dispiace non vedere il complessivo perché mi interessava molto il discorso della cassa, perché aveva già bruciato nei primi 9 mesi 400 milioni, io vedo il titolo tra 20,46 e 20,38, diciamo sui minimi della seconda metà di dicembre, e poi eventualmente attestare la media mobile a 200, a 19,60. Poi danno un EBITDA atteso tra 3,20 e 3,40, comunque è molto difficile fare una valutazione, ripeto, senza avere maggiori dati, non tanto sulle attese che sono importanti, ma di quanto è successo nel 2022 rispetto al 2021. Banchi d'Italia è vicino a chiudere l'accordo con l'autorità europea sul rinnovo della garanzia pubblica per la cattualizzazione delle sofferenze bancarie, Gax, questo è una buona notizia, questa è una buona notizia, ma il mercato, sicuramente, la sta già scontando. Stellantis, l'agenzia di rating di BRS Morningstar ha migliorato il proprio giudizio portandola da 3B a 3Bi, il trend passa da stabile a positivo. Diamo uno sguardo anche a Stellantis. Direi che questa base in area 13,80 per il momento sta facendo il suo dovere, è comunque in una sorta di trading range da ormai 6 sedute, il primo target significativo sarebbe la chiusura del gap lasciato aperto a 14,252 e poi il massimo della stessa seduta del 18 gennaio a 14,456. Se dovessi invece perdere l'area 13,80 avrebbe subito media mobile a 100, 13,66, poi 13,61 minimo della spinning top del 3 gennaio e media mobile a 200, 13,43. Poi abbiamo tutta una serie di aggiornamento sui target price di STM, ieri ho fatto il video specifico, Jeffries alza a 33 da 24, siamo già sopra 42, Credit Suisse alza a 65 da 58, vedete anche che disparità che ci sono, Cohen & Company, questa società sono sincero con voi, mi scuso ma non la conosco, alza a 56 da 50, poi abbiamo un'alzata di target su CNH, mi sembra un po' ottimista, nonostante CNH sia sui massimi storici perché Berenberg inizia a coprire con un rating buy CNH con target price 31, sinceramente va bene ma siamo a 16 voglio dire, è vero che può rompere i massimi e si aprono delle vere e proprie praterie, ma mi sembra un po' eccessivo, poi Buzzi, questa guardiamola perché comunque era impostata molto bene e continua a esserlo perché sui massimi, JP Morgan alza target price a 18 da 16 però siamo già a 20, vi avevo fatto vedere che fino a 20,39 massimo della spinning top della terza settimana di febbraio dello scorso anno sarebbe potuto arrivare poi eventualmente a questi massimi ravvicinati sempre sul time frame settimanale, 20,74, 20,87, poi abbiamo ancora, questo potrebbe essere interessante perché è un titolo che ha fatto davvero molto bene di periodo piaggio, vedete che è proprio sui massimi, Berenberg alza il target price a 4,40 da 3,50. Facciamo velocemente una scorsa del calendario economico, la borsa cinese è ancora chiusa per, il capodanno cinese ovviamente viene indicato ancora un discorso della Garda alle 11 e mezza, però quello che ci interessa a livello di dati macro sono l'indice dei prezzi delle spese personali principali, 14,30 negli Stati Uniti e poi alle 16 le famose pending home sales, contratti pendenti di vendita di abitazioni, scusate il primo dato è previsto a più 0,3, contratti pendenti di vendita di abitazioni è previsto a meno 0,9, poi altro di significativo non vedo ma come vi dicevo secondo me tutto rimandato alla settimana prossima per la direzionalità definitiva delle prossime settimane. Con questo concluso auguro a tutti buon trading e noi ci aggiorniamo o domani nel tardo pomeriggio oppure domenica mattina in tarda mattinata. Ancora buon trading a tutti!